E' suonata anticipatamente la campanella di inizio anno scolastico liceo Fogazzaro di Vicenza e primo test per Green Pass e distanziamento sociale. In attesa della nuova piattaforma per la verifica del certificato verde si è utilizzata l'app del Ministero. Qualcuno si è presentato e non aveva la certificazione? Tra i docenti nessuno, una persona non aveva il Green Pass valido. Quindi è rimasto fuori? Sì, ma fra 200 voglio dire questo va anche bene. 5 gli accessi uscite attivi durante l'estate si è proceduto con il supporto dalla provincia ai lavori di ampliamento delle classi per consentire il distanziamento, quello frontale almeno. E' chiaro che se si girano uno con l'altro e si accostano le teste è finita insomma, quindi questo non lo possono fare. Ma come hanno vissuto questo primo giorno i ragazzi tra misure anti-covid e ritrovarsi con i compagni in classe? Noi avevamo sentito che sarebbe tornato il compagno di banco e invece non è stato così. Però alla fine comunque come l'anno scorso me l'aspettavo molto peggio. Ero contento di poter rivedere i miei compagni. Con alcuni mi trovavo già in estate ma comunque vederli tutti è stato molto piacevole. Un inizio insomma senza scossoni almeno sul fronte covid. Qualche problema ancora invece per quanto riguarda le supplenze già assegnate e accettate dai docenti. Ma ci sono aspettative, congedi, storie, più le malattie di quelli che ci sono, dei professori perché disgraziatamente capita a tutti. Quindi ancora non siamo a organico più, anzi siamo in sofferenza.